Fly Original è la prima e più grande azienda italiana operante in quota mediante l'impiego di funi. Grazie ad un ufficio tecnico interno competente e preparato e dipendenti con un alto grado di formazione professionale, siamo in grado di garantire lavori di altissima qualità per la manutenzione edile, il restauro, controllo e pulizia di stabili, ecc. La tecnica di accesso in quota mediante l'impiego di funi garantisce sicurezza sul lavoro, basso disturbo per l'utenza e risultati eccellenti con un considerevole risparmio economico. Fly Original, siamo all'altezza!